buongiorno a tutti breve tutorial per mostrare come si fanno come si fa a aggiungere delle formule chimiche di struttura a un documento di word dunque premetto che io la chimica l'ho studiata alle superiori e non all'università quindi non conosco questa scienza in maniera esauriente comunque so come si fa inserire delle formule chimiche ovviamente bisogna avere word e bisogna avere anche un add che può essere scaricato da questa pagina di cui metterò l'indirizzo sotto il player del video se io clicca qua su su questo file exe verrà scaricato un file exe come questo su cui fare un doppio clic e seguire il wizard di installazione quando si è effettuata questa operazione quando si apre word in un documento già preesistente oppure vuoto verrà creata una nuova una nuova scheda scheda appunto chemistry in cui con cui inserire le formule chimiche di struttura cioè quelle che non hanno soltanto il gli atomi ma presentano anche i legami ionici i legami di valenza tra i vari atomi dunque per inserire una formula chimica grezza o brutta come si dice non ci sono grossi problemi uno la digita semplicemente poi i numeri dei degli atomi uno ci mette qua il pedice ed ecco 4 questa è la formula del dell'acido solforico per esempio si può anche cancellare vediamo invece come si fa a inserire una forma di struttura si va appunto su sulla scheda chemistry qui possiamo andare sulla libreria si va su open library e qui ci sono delle delle formule di struttura come vedete che c'erano anche le gambe ionici di esempio che si può eventualmente si possa eventualmente utilizzare si va qua su in certe copie of the chemistry per inserirle o dunque questa questa formula che abbiamo inserito possiamo anche editarla dopo averla selezionata si va qua su edit e si aprirà questo questo strumento per evitare questa formula si può però creare una formula di struttura anche tardi al niente e andando appunto su trovo si apre lo stesso lo stesso strumento in cui inserire una formula struttura dal niente dunque consiglio di andare qua su help user manual e leggersi il manuale su come creare queste formule di struttura qui c'è il manuale che viene scaricato insieme all'adding con tutte le istruzioni che sono in inglese però chiaramente se uno conosce l'inglese può tranquillamente tradurlo in italiano questo questo manuale per inserire una formula chimica dal niente si va appunto sul trovo qui ci sono vari pulsanti per esempio qui si possono inserire quelli che sono i legami degli idrocarburi questo è un ciclo xano questo è un benzene mi pare proviamo con il benzene adesso io probabilmente inserirò delle cose a caso quindi non fateci tanto caso quello che inserisco ma quando si seleziona per esempio il benzene si clicca qua e il benzene verrà la struttura del benzene verrà inserita nella formula di struttura qui si va sullo zoom si può aumentare qui si possono aggiungere degli elementi si fa così ed ecco si aggiunge per esempio l'ossigeno adesso andiamo indietro l'ossigeno si può aggiungere che sono idrogeno si può aggiungere per esempio il cloro magari si può adesso non so se se me lo accetta perché un errore ma si può aggiungere anche un altri elementi si possono aggiungersi l'acqua su questo questo strumento che è quello della tabella periodica degli elementi di vendere e si può scegliere per esempio un elemento non c'entra niente prendiamo ecco il potassio sceglie potassio e quindi ci si mette un bel potassio qua quando si va su ok questa formula di struttura può essere poi inserita nel nostro documento ora magari mi dirà che ho sbagliato chiaramente si va su save ecco la nostra formula chimica che è inserita nel documento questa formula chimica può essere anche salvata si seleziona si va su save oppure su esporta su save si aggiungerà le formule chimiche che sono già presenti nella libreria su export potrà essere salvata in una in una nostra cartella per poi richiamarla in un altro documento vedete salvata in formato cml si dà un numero per esempio formula formula caso si va su salva e quindi sarà salvata e quindi potrà essere anche importata in altri documenti si può vedere il file cml ha una sua struttura si può anche vedere la struttura del file cml si apre ecco vedete una struttura che ricorda molto i file xml come struttura di file oppure anche i file sug delle immagini vettoriali dunque questo è tutto alla prossima